Il via della qualifica del Gran Premio d'Austria Per poco non ha preso la polla e lì a giocarsela tutte le gare, bravo! Si prepara Charles Leclerc davanti alla monoposto invece di Carlos Sainz Red Bull che anche in questa occasione è stata l'ultima a uscire dai box proprio per quella questione legata alle temperature dei cui tanto vi abbiamo parlato Peraltro là in fondo in ultima posizione, passate per pollici, ecco che arriva anche Charles Leclerc che scatterà lì in prima fila con Max Verstappen Uno, due, tre, sui motori, quattro, cinque, allo spegnimento della via della sprint del Gran Premio d'Austria con l'ottimo spunto di Max Verstappen buono anche per quello di Charles Leclerc che si accoda, ha cercato uno spiraglio ottimo di carri Questa marea arancione con Verstappen che sta per affrontare la penultima curva Quasi il contatto tra i due con Sainz che deve alzare il piede, non so quanto questo piacerà al Moretto Box della Ferrari Gran Premio d'Austria davanti a Charles Leclerc in seconda posizione, terza mantenendo quindi la griglia di partenza della qualifica anche per la sprint Intanto Valtteri Bocca